Buon il numero 1, il capitano Samy, con il numero 2, Diego, con il numero 5, Roberto, con il numero 6, Stefan, con il numero 9, Romelu, con il numero 10, il toro, non toro, con il numero 18, Quattro, con il numero 23, Niccolò, con il numero 37, Mirun, con il numero 77, Marzelo, con il numero 87, Antonio, cazamento, di Brundtore, Antonio, Donz, Antonio, Carlo, beni!